ciao bambini vi ricordate di nonno arturo ciao nonno arturo ciao zia flavia ciao ciao ma con cosa stai giocando guarda non mi dire niente innanzitutto voglio dare un messaggio ai bambini sì che messaggio vuoi dare sono diventato più buono sei diventato più buono ma non è natale no sono diventato buono perché ho avuto una lavata di testa cosa ti è successo mi hanno detto che non devo parlare certe cose devo stare un po devi stare bravo è vero e attento allora volevo chiedere scusa alle mamme e bambini ecco bravo perché io con l'età sono diventato un po chiacchierone sai eh sì si deve sempre chiacchierare di alcune cose che non si può non si può hai ragione ora sono bravo bene allora ti faccio anche una carezza ma dimmi con cosa stai giocando perché mi incuriosiscono tutti questi omini qua strani questi sono i playmobil nella versione dello spazio vanno nello spazio si si ma allora tu conosci i pianeti si guarda te li so tutti a memoria vediamo vediamo facciamo una domanda io ti dico allora quello più vicino alla terra il più vicino alla terra è un pianeta che praticamente come dire un tempo era abitato dagli esseri umani o dagli alieni ok ed era tutto rosso si chiama il pianeta rosso pianeta rosso sì ma è l'arte ah perché io qua non c'era scritto pianeta rosso adesso dimmeli tutti vediamo vediamo è più vicino alla terra è marte marte poi in che direzione scusa allora di qua c'è marte e di qua c'è c'è marte di là cos'è venere bravissimo ho studiato bravo bravo e dopo venere cosa se li sai tutti ti racconto una storia allora dopo venere c'è allora venere è quello del riso no il riso venere giusto non è proprio che viene da lì il riso e dove fanno il riso facciamo pinta però non è vero ecco poi poi c'è il pianeta dove fanno le uova perché non si chiama giova no ah quello dall'altra parte vicino a marte giove ah tu dici verso il sole eh verso il sole come si chiama ah quel pianeta che brucia perché è vicino al sole sì sì perché fa tanto tanto caldo ah io è il pianeta dove fanno i termometri eh sì giusto bravo per ricordartelo si chiama mercurio bravissimo ma adesso i termometri sono digitali eh e quindi non c'è più dentro il mercurio no perché il mercurio inquina fa male eh sì per fortuna oh bambini non mangiate il mercurio è pericoloso no 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 mi raccomando poi andiamo in quale alimento si trova se no le mamme si arrabbiano eh no non glielo dico ah 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 sono bravo sono diventato bravo 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 nonno Arturo guarda che te ne mancano adesso di qua c'è marte giove poi aspetta è un pianeta lo so questo la so la sai dove c'è uno che sa sempre quando è il momento suo saturno ah che bravo saturno ma così almeno i bambini sanno come ricordarsi i pianeti no ma lui conosce il suo turno capito bravissimo ma bravo e dopo e dopo chi c'è chi c'è dopo c'è ancora uno è un cane è il nome di un cane no no il nome del cane è la fine l'ultimo oh è vero ce n'è un altro ce ne sono due ancora è uno del canton Uri bravissimo è un urano urano sì e poi c'è di quello del cane no quello del cane alla fine questo c'è un altro sì è quello che sta in fondo al mare ah sì lo so quello che non che quando gli chiedi come si chiama lui risponde Nettuno eh bravo ma hanno fatto anche una canzone davvero Nettuno mi può giudicare ma no quella è nessuno ho sbagliato ma dai nonno Arturo ma nonno Arturo ma cosa dici mi sa che sto invecchiando eh beh sì vado per il 104 eh sì che mese fa il compleanno ottobre ottobre oh allora ce n'è ancora tanto sì sì allora continuiamo l'ultimo che è quello del cane è è Pluto eh quasi Pluto Plutonio Pluto no Pluto Plutone Plutone no 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 buona la terza bene allora hai vinto una storia sei contento guarda se ti dicessi quanto sono stanco ti direi sì raccontami ecco adesso ti racconto una storia che si intitola l'orso che aveva la testa fra le stelle oddio ma è una storia triste no è una storia bella ascolta c'era una volta un orso non far accadere le cose sta attento bambini la Flavia secondo voi mi sta per raccontare una storia triste perché io poi piango eh no 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 è una storia allegra è una storia allegra e bellissima bene allora dai allora shh e ascolta ma ti posso interrompere sì ogni tanto ma non sempre non fare disastri eh no no sono diventato buono ah meno male allora buonissimo c'era una volta un orso che aveva la testa tra le stelle no scusa quanto era alto quest'orso come fa avere la testa tra le stelle ma scusa ma che storie leggi ma è un film di fantascienza ma vuol dire che gli piacevano tanto le stelle quindi le guardava sempre ma allora tra le nuvole no tra le stelle è più bello perché non volevo studiare le stelle dai andiamo in avanti senti bambini questa storia comincia male già eh un orso un po' strano col collo lungo che arriva alle stelle ma guarda che fai cadere gli omini ho capito ma io non vedo eh sono vecchio non vedi c'hai gli occhi sono vecchio e metti gli occhiali e non mi va non mi scano bambini ha bisogno degli occhiali allora passava le serate osservando il cielo immaginava i pianeti abitati da esseri strani e meravigliosi cioè tipo te e innava loro segnali nella notte come me ecco guarda hai fatto un disastro ho fatto cadere qualcosa hai fatto cadere gli omini comunque se parlava di esseri strani e meravigliosi parlava di te perché io sono strana però sei meravigliosa ah grazie meno male si chiamava orso ma fantasia scusate ma i genitori di questo orso non avevano nulla da fare cioè che nome hanno inventato l'hanno chiamato un orso l'hanno chiamato orso ma scusate eh non sapevano che nome dare ma come se io fossi ipotesi un pupazzo mi chiamassero pupazzo invece mi hanno chiamato arturo meno male che ti hanno chiamato e a te che sei una donna pensa se ti chiamassero donna perché in america che non hanno la fantasia l'hanno chiamate le donne si chiamano anche donna davvero perché sai non dico che sono buono va bene allora continuo una sera orso scorse qualcosa che baluginava scorse la in alto scorse che vuol dire? vide guardare ha visto una cosa scorse bravo parli bene dall'altro capo della galassia ed era era di certo un vascello extraterrestre sì pazzo di gioia corse ad avvertire gufo ma no è solo una cometa gli assicurò al vecchio saggio aspetta aspetta gufo lasciami indovinare si chiamava tipo gufo? esatto ma che fantasia ma cos'è il bosco della banalità fammi capire e non avevano tanto fantasia coi nomi allora la prossima volta chiamassero me il mio numero è 800 non me lo ricordo meno male però i bambini possono dare qualche idea su facebook nonno arturo scrivete su facebook nonno arturo come li possiamo chiamare e io io vi do i nomi bravissimo ci siamo solo noi nell'universo mio piccolo orso qualche notte più tardi orso fu svegliato da un improvviso ed enorme baiing si precipitò fuori cos'è ha lasciato il gas aperto oh bambini non si tocca il gas esatto ma non tutti hanno il gas a casa no in svizzera no una nave spaziale qualcuno ce l'ha però eh sì ma ascolta orso è orso mi chiamato orso a me io sono socievole non sono un orso lo sapete bambini che quando una persona non ha tanta voglia di fare socializzare si chiama orso cioè si dice che è un orso oh questo non l'ho proprio sentito si ho sentito comunque ha trovato una nave spaziale nel suo orto no mamma mia la porta della nave si aprì e aveva abbastanza spazio nell'orto no gli ha distrutto tutto poveri e apparvero delle strane creature sembravano degli orsi più piccoli ciao olzo noi siamo ioti e abbiamo bisogno di te il nostro le il grande ioto ha perso la voglia di ridere spiegò uno ioto immagina che tristezza sul nostro pianeta le risate sono la tua specialità solo tu puoi aiutarci gli ioti lo spinsero nella loro nave che decollò all'istante dove ha finito orso guardò la terra allontanarsi il tuo pianeta è ioticamente bello commento a uno ioto ma sempre questo ioto non c'è mai la i di davanti eh no è il più bello del sistema solare secondo me guardate interruppe l'orso tutto eccitato ecco la luna è quella là e non è quello là non è marte oh no cambiate ruota presto per di qua è pieno di asteroidi finiremo polverizzati ma non ci capivano nulla scusa non ci avevano il navigatore questi no ma che alieni sono scusa finalmente ci divertiamo esclamò lo ioto tieniti forte ti piacerà un sacco lasciandosi il sole alle spalle la nave spaziale zigzagò tra gli asteroidi come scusa zig cosa zig zagò tra gli asteroidi zig zagò zig zag scese in picchiata verso giove e fece la giravolta attorno agli anelli di saturno è vero tutti scombussolati infatti mia moglie mia moglie quando aveva bisogno di cioè le ho chiesto di sposarmi sono andato su saturno a prendere gli anelli questa è proprio bella ma non sono mica gli anelli da mettere al dito e quali sono? sono come delle cose che girano attorno al pianeta hai capito? io adesso sono diventato bravo e non faccio la battuta va bene allora andiamo a vedere sono bravo io otissimo disse il pilota stavolta ci entriamo a velocità massima dove? chiese l'orso nel panico ho una domanda tecnica per te in quel buco nero aiuto disse orso cosa c'è? c'è un buco nero non so cos'è il buco nero? adesso ve lo spiego bambini ecco bravo allora il buco nero è una una formazione dello spazio dove praticamente tutto quello che è intorno viene mangiato e finisce dentro un buco nero in questo buco e poi esce ma non sei sicuro perché nessuno ci è andato a vedere esce in un altro universo parallelo perché in realtà ci sono più universi pare che ci siano degli universi paralleli cioè c'è un mondo e poi un mondo al contrario di questo per esempio ma sei sicuro di quello che dici? sì te lo dico guarda in questo mondo c'è Flavia che è bella brava buona simpatica intelligente meravigliosa si poi ancora un po' nell'altro mondo c'è una Flavia terribile ma proprio terribile ma no ma non c'è ma e c'è un nonno Arturo di là che dice le parolacce ma non fare lo sciocchio parla di politica è uno cattivo nonno Arturo adesso continuiamo con la storia quindi hai spiegato cos'è il buco nero quello è vero il buco nero bisogna stare lontani infatti appena inghiottita dal buco nero la nave fu rigettata dall'altra parte gli occhi di orso spalancati per la sorpresa parevano due dischi volanti benvenuto nella nostra galassia dissero gli ioti ecco il pianeta bicerchio a ovoide polpetta alfa pentapallina minor ma il più bello è il nostro ioturno ioturno allarme 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 urlò il pilota ci siamo fatti iotari da uno iotolagno preparare le pallottole orso che era già stato catturato da uno iotolagno no ma che nomi ci sono in questa storia scusa sono belli vero che lo girava sono un po ioti come nomi lo girava nonno Arturo e lo rigirava mi sono i ioti i nomi ioti tutto ai vostri tutti ai vostri posti puntate mirate iotate pum pum le palle multicolore schizzarono fuori dalle navi spaziali non è una parolaccia sono delle palline rotonde che venivano lanciate ah ok lo iotolagno lasciò subito orso e si precipitò a raccoglierle piena di gioia ripresero orso e lo portarono nel loro re il grande re ioto e orso raccontò le sue barzellette preferite no le racconto una io di barzelletta aspetta prima finiamo la storia fece le smorpie che conosceva e il re si mise a ridere tutti iniziarono a ridere e scoprirono che ridere faceva proprio bene è vero bambini vi sveglio una cosa sapete perché io ho 103 anni e sono così in forma guardate capelli originali eh sì alla carota sì sì capelli di carota perché la carota fa bene per i capelli fa bene sì ma io perché rido ah 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 è per quello che sei così esatto più ridi più vivi è vero è vero quindi bisogna ridere tanto eh bimbi sì lo sai che poi gli ioti hanno riportato orso nella terra e orso era contento e ha portato allegria non solo nel pianeta degli ioti ma anche nel suo bosco sta nel bosco l'orso non lo voglio io l'ho visto sempre nei posti più aperti ah sì dove? nel polo 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 sud ma quello non è l'orso bianco ci sono due orsi eh nonno Arturo allora è polo nord no un orso sta al polo e un altro sta dove non c'è il polo alla bistecca polo e bistecca no dai scusa è rosso lo vuoi fare a bistecca? ah uno è polo e l'altro è pollo ma non è la stessa cosa il polo è il polo il polo nord è quello che sta verso su e il polo sud sta giù esatto e invece dobbiamo portiamo la prossima volta la il mappamondo il mappamondo dai sì 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 lo devo prendere però perché ce l'ho a casa ok va bene sai però non mi hai fatto partecipare a questa storia no ascolta adesso puoi dire la tua barzelletta dai che sono curiosa allora vi racconto una barzelletta dai e però ai bambini non lo so se gliela posso raccontare ma possibile che non sia una barzelletta per i nostri amici bambini? proviamo proviamo allora la sai quella del fantasma formaggino? no è bellissima sentiamola allora sì sì allora allora c'era un in una casa no? entrava a un certo punto di notte di notte entrava un fantasma che paura e faceva uuuuh 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 aiuto sono il fantasma formaggino e i bambini scappavano avevano paura del fantasma formaggino ma perché era abitata questa casa sì sì era una casa abitata allora in un'altra casa una sera uuuuh uuuuh era sempre lui uuuuh sono il fantasma formaggino e tutti scappavano avevano paura no? è certo ma questi erano gli adulti sì quando è entrato nella stanza di un bambino sì e lui era convinto gli faccio tanta paura è un bambino ha paura no? e invece? l'altra volta abbiamo parlato della paura oh sì invece no perché lui sentì che fa uuuuh 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 sono il fantasma formaggino e allora il bambino che non si è spaventato gli ha detto se non stai zitto ti spalmo sul panino che bella non è volga di spaventare no questo è bellissimo allora vedi bravo nonno Arturo sei proprio diventato bravo sì sì bravissimo adesso io direi che io e te possiamo andare a giocare sì con questi bellissimi Playmobil che dici? ecco allora salutiamo i bambini salutiamo i bambini e ci vediamo dopo eh ci vediamo domenica prossima ciao ciao bambini ciao bambini ciao ma a me sono stato bravo eh sì sì bravo bravo ciao nonno Arturo ciao ciao bambini ciao ciao